La Polizia Nuova Forza Democratica ha un evento in itinere con l'obiettivo di avvicinare i giovani allo sport per dare proprio questo il vostro slogan, dare un calcio al pallone, anche per dire no alla mafia. Assolutamente sì, abbiamo finalmente creato questa affiliazione con i campi di calcio Vida Club, qui c'è il responsabile titolare dei campi di calcio, quindi ringrazio innanzitutto la famiglia Anselmo, insomma la famiglia di Giuseppe che sono i titolari del campo, che ci hanno dato questa possibilità di creare questa bellissima affiliazione. Il nostro compito è proprio questo, come sindacato di Polizia creare questa unione in modo tale che lo sport sia veramente libero da ogni cosa e che dai più piccoli ai più grandi si possa, come si suol dire, usare il pallone in senso metaforico dare un calcio alla mafia che purtroppo in questi anni ha mietuto tante vittime, ha portato purtroppo tante vittime non solo all'interno delle forze di polizia ma anche purtroppo cittadini comuni che insomma hanno cercato di ribellarsi. Quindi ecco, utilizzare lo sport per dare un segnale importante ai bimbi, soprattutto da piccoli, io tra l'altro ho un figlio di nove anni, e dare un segnale importante a loro che comunque la mafia sin da piccoli la si può combattere, non rimanendo in silenzio ma utilizzando queste grandi aziende come Campi di Calcio o altre associazioni che vogliono in un certo modo dare un segnale importante alla mafia e dire noi ci siamo e il sindacato di Polizia è contentissimo di questo, che c'è il Vida Club che ha in un certo modo dato la possibilità a noi di fare questa affiliazione e creare questa cosa molto importante. Ecco, lei è il proprietario dei campetti messi a disposizione proprio per questo obiettivo importante, quindi lo sport come palestra di vita. Assolutamente sì, è un'iniziativa alla quale abbiamo detto subito di sì al responsabile, al segretario regionale del PNFD, il sindacato di Polizia. Siamo stati subito d'accordo anche perché avendo da noi una scuola calcio che fa gli allenamenti è importantissimo che si dà subito questo messaggio di lottare alla mafia sin da bambini appunto.